Da tanti anni non avevamo libri nuovi e abbiamo libri sinceramente adeguati anche all'attività laboratoriale. Con i libri i bambini riescono comunque attraverso le figure a leggere. Un tour per le scuole materne di Camucì e Pozzo della Chiana, rispettivamente nel comune di Cortona e Fogliano, ha sancito l'ufficialità della donazione di due bibliotechine con centinaia di volumi per bambini a cura di Val di Chiana Village che è aderito al progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro promossa dalle librerie Giunti al Punto. Ha uno scopo nobile che è quello di dare un supporto all'infanzia, quindi proprio ai primissimi anni di frequentazione delle strutture scolastiche con la donazione dei libri, dei libri ovviamente della libreria Giunti che sono a disposizione di questi due plessi e ovviamente è un piccolo contributo che diamo per il vantaggio appunto del nostro territorio. È un'ulteriore occasione di dimostrazione della sensibilità che questa struttura insieme agli operatori che operano all'interno della struttura dimostrano nei confronti del territorio, quindi come amministrazione siamo assolutamente contenti. Ci puntiamo molto alla lettura e poter potenziare questo bagaglio anche nell'infanzia e quindi su tutte le scuole con progetti di questo genere per noi è molto importante e siamo davvero contenti di essere stati scelti perché si va nella stessa direzione. Non solo istituti scolastici ma anche reparti pediatrici degli ospedali. La terza tappa almeno sul 2024 che è quella poi dell'ospedale San Donato di Arezzo, del reparto pediatrico dove faremo una terza e ultima donazione sempre di queste mini biblioteche e ovviamente anche qui la dimostrazione che non soltanto le scuole ma anche strutture di questo tipo possono beneficiare del nostro piccolo contributo.